piccole e medie imprese che primeggiano oggi nel mercato mondiale della meccanica Un attimo, salutiamo le insegnanti che sono su richiesta della Lega Prego, adesso però concludiamo Allora, prego i questori di ripristinare l'ordine in aula Richiamo all'ordine, prego la questori Bottici, per favore, capogruppo, responsabile del gruppo Adesso diamo la possibilità di completare l'intervento alla senatrice Puglisi Abbiamo il senatore Cioffi Il senatore Sant'Angelo, vi richiamo all'ordine per la seconda volta Non lasceremo la scuola sola di fronte al cambiamento Continueremo a lavorare per valorizzare Allora Andiamo? Andiamo? Senatore Martoni, io provvedolo Non volete votare?